Le spiagge ed il mare di Marina di Ginosa si sono giudicate anche per quest'anno la bandiera blu ed è la sedicesima conferita dalla FEE, l'unica per la provincia ionica. Questa mattina Marina di Ginosa si è tenuta la conferenza stampa dopo la consegna del prestigioso vessillo consegnato lo scorso martedì al sindaco della città di Ginosa Vito De Palma, presso la sede della presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Nel corso della conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche il comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, il capitano Francesco Russo, oltre che agli assessori Galante Toma Perniola ed il consigliere Notarangelo, sono stati resi in nodi ai giornalisti i dati che hanno consentito alla città di conseguire per la sedicesima volta l'ambito riconoscimento. Questa bandiera certifica il buono stato di salute di questo territorio? Sì, certamente l'inquinamento non viene solo dal mare, viene anche dalla terra, è chiaro che l'attività di vigilanza che il corpo svolge per la salvaguardia ambientale, sia dell'inquinamento marino che proviene da terra che da mare, da mare, come ho avuto modo di sottolineare con le ispezioni che il nostro personale svolge a bordo delle navi, in questo caso è chiaro che rileva l'inquinamento da terra, fondamentalmente dai depuratori marini, il fatto appunto del ricevimento di questo riconoscimento importante è segno di un'amministrazione che ha fatto bene il proprio dovere, quindi ha saputo gestire anche la parte della depurazione dei reflui urbani in maniera adeguata. Il conseguimento di questi risultati sono sì per volontà dell'amministrazione che mette in campo una serie di provvedimenti e di atti amministrativi, ma è soprattutto grazie alla collaborazione, alla sensibilità ambientale di tanti cittadini. Io ritengo che attraverso la raccolta differenziata, attraverso i valori di purezza delle nostre acque, attraverso i servizi e quant'altro, noi abbiamo la possibilità di caratterizzarci sempre di più e meglio. È positivo che Marina di Ginosa consegue la bandiera blu, sarebbe stato ancora più positivo se anche tutti gli altri comuni della costa, così come avviene in Liguria, Toscana e Emilia Romagna, potessero ascrivere questa bandiera blu fra i meriti, come dire, queste certificazioni dei propri comuni, perché attraverso un'azione di sistema riusciamo anche ad implementare e ad incrementare invece il nostro turismo locale. Turismo locale che dai dati in nostro possesso, quelli che abbiamo verificato attraverso la tassa di soggiorno e quant'altro, ha documentato per lo scorso anno un incremento del 30% solo nelle strutture ricettive. Due le novità annunciate nel corso della conferenza, un lido che consentirà l'accesso in spiaggia ai cani e l'introduzione del servizio di raccolta domiciliare anche del vetro. Ciò consentirà di eliminare gli indecorosi raccoglitori rimasti, troppo spesso ricettacolo di rifiuti indifferenziati. È una richiesta che veniva fortemente da alcuni cittadini, da alcune associazioni. Quest'anno iniziamo con questa spiaggia solo dedicata appunto a chi vuole arrivare in spiaggia con il proprio cane, quindi sarà una spiaggia riservata, così come avviene in altre realtà. È un lido privato? Sì, così come avviene anche in altre realtà d'Italia. Stiamo già lavorando, come hai detto tu, per la diciassettesima bandiera. A giorni arriveranno in tutte le abitazioni di Marina di Ginosa il secchiello del vetro, così non avremo più problemi dove andare a buttare il vetro, perché tantissima gente dove vede quei recipienti dove bisogna buttare il vetro ci butta anche le immondizie e ci viene penalizzato. La cosa più importante è già due isole ecologiche, una marina di Ginosa e una Ginosa piccole, che si potrà accedere con una scheda magnetica che sarà fornita dal comune. Operativi da quando? Operativi penso che tra 20 giorni sarà tutto pronto per cominciare a soffrire di questi servizi.